Ahahah! Schifo! come al solito, schifo ma io ho detto tra i primi cinque i primi cinque a morire scuola 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 c'è un'altra scuola ci facciamo sparare c'è praticamente quando vediamo il tipo secco ok scuola c'è la rossa mia buona mia parola ok e si trovo la passata ora però magari se mi chiede un po' come ti esatto hai avuto che si dice la sei imparato non ho mai visto non ho mai incrociato poi è lontana, è lontana ancora di più ho capito ma almeno vicino a noi vabbè ma peggio di Ivan non ce n'è che Ivan? oh vado lì guarda che c'è no no Ivan parte da solo come no? in automatico? no no non sai come che mi sparo che 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 ma osti l'indiscesa sto castro andiamo tipo downtown troviamo la tessera e poi moriamo e poi andiamo e vai andiamo si è girato si è girato e se c'è da parte siamo sempre da parte apposta quindi unico test di cazzo che è qua in basso sono io solo vado subito e io lo prendo e io lo prendo e lo prendo e lo prendo e lo prendo ma che cazzo si sta cercando vedi che buzzer è più lontano di tutti se vuoi te la lascio te la lascio te la lascio scambola tessera di merda ma stasera le macchine quali sono le macchine pinghari congo pinghari l'osismo che è uno perché uno è 200 metri non ho avuto ma io e buzzi ci siamo vicini ci facciamo beccare ci troppo ci troppo se prendiamo subito un cancio ce la facciamo io eh pensavo di arrivarci buzzi arrivi l'esercizio la ebbene con la città no c'è un po' ma se in testa se non l'altro prende due i i i i i i i i i il i i i i i i i e adesso si va la sede o di non andare spado non riesco a vedere difficilissima prima a colpo di nessuno sei un down oh davvero non ci ha tracciato ma ci ha tracciato mi ammazza da sicuro fighe mi rincoro c'era il cuore c'era la macchina davanti si arriva verso di noi neanche io in seguito è proprio bastardo come c'è in seguito l'arena in seguito la 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 l. la la il di il si doen non chiede se volete vado direttamente al verde la regla il terrorismo la la il che cazzo il suo collo c'è il vero marco se avete vingato ma come ti faccio buttare via 4.500 in un secondo ma siamo 5 persone con no io ci sono ricordo dietro al culo oddio sono sceso mi so succedere doveva essere qui da qualche parola mi muovo di qua mi muovo di qua mi muovo di qua non ti mi fermo quel cazzo di fraccetta di me vedi che c'ho da parte due tipi saranno 7 occhi loro e loro ciocco e loro ciocco io sono sopra un tipo qua sotto c'è qualcosa usilua via vai sei sopra un tipo no? eh ma non lo vedo perché c'è il hooker mi sarò dentro il hooker eh si è qua il hooker ho visto il tipo no altro mi ha un po' e non ce l'ha fatta ha atterrato il tipo ha eliminato e quindi siamo fottuti una volta che arriviamo al bunker c'è la terra veramente sicuramente se va bene ma che ti smesso sono le armi dove? mi sono riusciti ma ma è ma chi è quello che è andato dentro sta? e poi è scappato avuto stai di carriano i modelli eh e siamo non ci fatti più nessuno e siamo non ci fatti più nessuno ci ha avuto che è andato in macchina che è andato in macchina se ne avevano detto il culo mi sa compra qualcosa no hai preso il bombardamento Buzzo? si bravo 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 ragazzi qualcuno si sa da una piasta no comunque dietro di noi è terrato uno qua su? no sopra il bunker l'abbiamo ucciso vedete? adesso botta hai visto un puntino dietro infatti mi sta sparando si spara 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 andiamo su qua numero verso di noi da vedere su se si spara si spara si spara si spara si spara si spara peccini si spara perciò si spara si spara si spara Appena che ti amostra stanno a un UAB No No, no, con la scheda non hai mai bunker E pensi che lui l'avevo volato, se l'avevo volato C'era un altro bunker C'è un bunker Camino e macchina Guarda, chi stai sparando? Chi cazzo è che sto giocando? Ora fai un bombardamento? No, no, perché si muovono Voi stessi dentro, no? Io sono su Guarda che tutto se ne vanno, guarda che tutto su Guarda che tutto se ne vanno, guarda tutto su Ma andiamo avanti Scesi Qua Mi scopo Mi scopo Non può Di vivi Ma lo lancio io, lo lancio io Eh, ciao, me l'avevo lanciato Ma hai fatto cagare a dorso, Wuzo Dove vai? Eccoli Eccoli C'è uno che si parcautato Salendo verso la casa Ma guarda che non dobbiamo muovere quando C'è più spiegazione Ma guarda che non dobbiamo muovere quando C'è più spiegazione Qua in casa il king merda Qua c'è più spiegazione E' qui c'è più spiegazione Sì E' qua giù 2 facciamo visto una strada ma c'era la provo io ma c'è che arriva ci scostiamo in questa casa si qualcuno qui da parte mi devo muovermi mi devo muovermi gas in arrivo 1 0 sopra 5 4 10 4 10 4 10 4 10 4 10 4 10 4 10 4 sono spostati sono spostati sono in fondo sono saliti non mi hanno neanche visto c'è una terra c'è una terra c'è una terra raga eliminato squadra eliminata guarda chip swett c'è una terra ok andiamo a Mannarci in action ea c'è una terra c'è una terra c'è una terra c'è una terra ero da solo poi davanti a me davanti a me è così morto arriva c'è una amica e una maschera non vedo nessuno dai c'è il bulldo uno lo vedo quasi ucciso trovo trovo a imboscarci anche occhio butta a salire occhio butta a salire a terra a terra a terra a terra bravo finisce morto ecco scoppiato della natura a terra a terra a terra gas in arrivo ok buongiorno per me lo stato il tuo solo io questa volta il ovvero così sono un'altra a Oh, facciamo schifo, facciamo schifo, figa ah no ah no Grazie a tutti.